Patrizio incontra in un bar di Torino Michela Persico, la fidanzata di Rugani, e ne approfitta per farci due chiacchiere. Siamo in live su Twitch, ti faccio vedere una cosa, guardami Michela, guardami, no non mi guarda, ecco, ok, allora siamo in live su Twitch, ci sono 600 persone collegate, ciao, io sono per la prima volta a Torino, non sono mai stato, vivo a Rimini, ciao, mi vedo che mi comparite nel feed di Instagram, ciao, patatina, dammi la patatina, dai, la patatina a me, anche io sono bravo, fai questa inquadratura, rende proprio giustizia, ma sai che cos'è, vediamo flippato, però loro ci vedono bene, non ti preoccupare, ma lui ha un patatino in bocca a lui, la patatina a me, la patatina. E cosa raccontate di questo interesse? Allora, praticamente io viaggio in tutta Italia, e a differenza degli youtuber che fanno il video con il montaggio, io faccio vedere tutto quello che succede nella vita reale, in live. Tipo un bimbo che mangia una patatina. Tipo un bimbo che mangia, tipo te, che ti ho visto tante volte su Instagram. Grazie. Vederti dal vivo... È un colpo... No, sei più... Come sempre, le persone dal vivo sono meglio, dai. Io sono qui. Non sempre. Vabbè, io te lo dico, io ho 40 anni e ti dico che... Complimenti. No, vabbè, ripeti? Sono stata brava, quanto mi dai adesso? No, i complimenti da lei, ragazzi, ora me la tiro, vabbè. Va bene, quindi è stato un piacere far parte di questo video per qualche secondo. Grazie. A tutti voi 618 seguaci. Sì. Siamo su... Sono spettatori. 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 Ti ripeto, è Twitch, non è Instagram, è una cosa un po' diversa. Perché, come ben sai, su Instagram posti foto, qua siamo in live, c'è una chat e la cosa bella è che puoi anche guadagnare facendo questo perché donano tramite Paypal, tramite una moneta virtuale che poi comunque sono soldi veri, quindi è bello divertirsi e guadagnare come tutte le piattaforme. Allora vi auguro di guadagnare il più possibile, che io sia stata di contributo in tutto ciò, non credo. Alla grande. Tu è amore mio. Oh, basta passare tutte. Ciao a tutti, ciao. Ti prego Michela, usciamo il prossimo. Grazie. Mi parla. È una donazione. Quando c'è la donazione c'è la cassa Bluetooth. Ah, ok. Oh, batti 5. Ciao. Grazie, signorina. Ciao a tutti. Bene, allora... Grazie. 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 Grazie.